e benvenuto in questo nuovissimo video come potete vedere siamo tornati su bandy and the ink machine per chi non lo sapesse bandy and the ink machine è un gioco horror ambientato in una vecchia casa editrice di cartoni animati stile disney e già sul canale come avete potuto vedere è uscita la prima puntata ok questa si apre ma non possiamo fare niente è uscita già la prima puntata perchè la volesse seguire la potuto fare sul canale e ora che dovevamo fare che non mi ricordo più riparare la macchina dell'inghiostro ma io avevo già trovato gli oggetti cioè scusa mi ha fatto il salvataggio da dopo il corso dai non vuole essere quasi stupido il gioco avevo trovato gli oggetti non era qui sto sbagliando strano non è qui nemmeno cavolo sta cosa di nuovo si è riaccesa spegniti pare sembra che hanno scoperto una piazza o due dopo l'ho lasciato, credo che ci sono un po' di persone per riposarmi di qua sotto nemmeno, anche se qui se non ero ci sarebbe dovuto essere i film, no, nemmeno un po' di qua, un po' di qua, un po' di qua se avessi una mappa o un qualcosa per vedere il posto che devo andare ecco, qui qua c'è la cosa che era passata a mia vita, come si chiama e qua mi sembra che ci dovrebbe essere cosa con gli oggetti, no la morte è più brutta che ci dovrebbe avere ah, me l'ha salvato, me l'ha salvato praticamente da dopo il coso quindi ora devo andare a trovare il libro e l'inchiostro, ma perché? allora l'inchiostro, se non era la cosa d'inchiostro dovrebbe trovarsi in uno di sti posti qua che è stato giù la volta scorsa, era talmente nascosto che io non avevo vista quella cosa quindi per non darlo a trovare poi me l'avevo vista con l'altissimo ok, qui, no, qui siamo già tornati ok, qui, no, qui ok, qui, no, qui ok, il coso si dovrebbe trovare qui e come si chiama, eccolo cosa ho preso? ora mi manca il libro e dove lo posso trovare il libro? madonna che suggerimento della fava proprio ok, di qui no qua manco il libro potrebbe essere qui? eccolo ok, sono tutti anzi, facciamo una cosa nel mentre ho salvato così non ci sono problemi ok, ora ok, ora la cosa è qui quindi adesso devo fare da qua il libro ed è qua l'inchiostro che c'è scritto restaurare la pressione dell'inghiostro suggerimento trovare la valvola di pressione la valvola di pressione allora l'unica valvola che mi viene in mente sarebbe la valvola che si trova nel posto in cui ci eravamo postati prima quindi se non erro si dovrebbe trovare qua no fessa di tua sorella fessa di tua sorella ma va ma va fandei ecco 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 ho accesso un casino a posto accendere la macchina mi sbaglio sempre la macchina è accesa vedo che purtroppo però la luce è partita madonna ora qua diventa veramente molto più come si chiama molto più pauroso allora che ho fatto ripartire la macchina che l'ho accesa dove devo andare? la sei fessa di tua madre la fessa di tua madre la fessa della madre corri 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 vacca poia corri ma che caro ma l'avete visto porco giudo io vabbè vabbè i vabbè i vabbè i vabbè ovviamente vabbè già qualcuno aveva qualche dubbio o qualche cosa la Madonna santa Il creatore manda a tutti noi E' affanculo Ma che cazzo Uno, due, tre, quattro Uno, due, tre Quattro, cinque, sei Forculo Cavolo erano quelle cose Cioè voi l'avete visto Posso andare a trovare la telecamera Capitolo due La vecchia canzone La mia testa Quattro, un peccato Capitolo, un peccato Beh, credo che c'è solo una cosa che faccia. Prendete. Vedete se potrei trovare un modo. C'è questa cosa? C'è questo libero. L'amore richiede il sacrificio. Posso avere un amen. Quindi stiamo venendo a scoprire che in qualche modo sti pazzi abbiano. Li sentite? Ho bisogno di ottenere l'energia in qualche modo. Potrebbero essere un paio di switchi a vicino. Poi potrei aprire. Rindirizzo all'energia? Madonna santa. Troppa roba da fare. Troppa. Per il cavolo è che deve andare. Vabbè, non ti avevo distrutto. Basta. Un, due, tre, stella. E te pareva. Parla. Non ci maci. ma sono tornato indietro io sono arrivato qui, ho distrutto la cosa così e sono andato per lì qui c'è il secondo ok io la devo... ahi devo dovere il terzo interruttore dove la cazzo sta? io che l'ho dovuto io che l'ho dovuto ecco qui a l'ho dovuto a l'ho dovuto a lei It's really dark in here E' una vera buio So first, Joey installs this ink machine over our heads Then it begins to leak Three times last month we couldn't even get out of our department Because the ink had flooded the stairwell Joey's solution An ink pump to drain it periodically Now I have this ugly pump switch right in my office People in and out all day Thanks Joey Just what I needed More distractions I can't see I can't see I can't see I can't see And the same strange thing happens I'll be up here in my booth The band will be swinging And suddenly Tanny Lord Just comes marching in and shuts the whole thing down Tells us all of Wheaton Hall Then I am Then i can't see The other guy They could go The one You can't see The usual You can't see The supplant on this Is amazing The other guy Is amazing It's incredible This guy Is really strange no perchè comunque deve passare di li io che pare quando qui se non ho sbaglio c'era qualche volta c'era mi sembra la cosa che uscivano creatore dalla non ho sbaglio 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 oddio ma l'inchiolo è bellissimo quindi faccio così ok ora devo capire cosa devo fare qui perchè da li non posso passare da qui nemmeno visto che da dove vengo e quindi è sbagliato quindi in qualche modo devo trovare in modo in qualche modo in qualche modo è in qualche modo è perché che è è che è che è che oddio guardate la macchia guardate la macchia c'è un qualcosa lo sapevo aiuto sono seccato vai oh che cavolo no di qua non posso eccolo no 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 oh there's the pump switch all right there's one hell of a leak blocking the door though if i could just stop that ink from flowing maybe i can get in no 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 ok oh qua c'è magari una cosa per sapere quindi serviamo anche senza 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 c'è va dato anche qui che c'è scritto non fate vedere a joy questa cosa vero no perché era praticamente era un eterno sorriso quando era felice quando era triste quando era disgustato e quando era cattivo quindi non poteva assolutamente essere triste cioè immaginatevi ai tempi cosa sarebbe successo va averno ok 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 lo avete sentito la infiammeria non possiamo nemmeno andare all'infermeria ok registrazione quindi di qua c'è la registrazione c'è l'infermeria di qua c'è un pianoforte con un tizio all'interno ogni volta che sono fa quindi io adesso andiamo a fare risalvo sempre in tempo nel caso posso fare le chiavi salvo e poi ci salutiamo per oggi dove stanno le chiavi dove stanno le chiavi dove stanno le chiavi chiavi aspetta aspetta l'ultima volta che ho fatto qualcosa del genere santa misera ho fatto fatta di tutto riesco a mandare ok 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 qui 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 e di questo dicevo ok il bidone che sta qui che qui al bidone c'è il coso non sta sta un bidone spero che questo secondo episodio di Bendy and the Ink Machine vi sia piaciuto come al solito vi invito a lasciare un commento e un mi piace e come sempre vi invito anche a passare su tutti i miei profili social che come in ogni video trovate in descrizione come sempre vi invito anche a supportare il canale con l'iscrizione con l'attivazione della gamba nella con un mi piace con un commento e con la condivisione del video e così vi invito anche a passare sul canale dove troverete tanti nuovi video e niente lupocchiotti noi ci vediamo ad un prossimo video ciao 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 ciao